Per l'adreno-leucodistrofia serve una diagnosi precoce. Ce lo spiega la dottoressa Moroni. Dottoressa Isabella Moroni, l'adreno-leucodistrofia che cos'è? È una grave malattia metabolica rara dovuta all'alterazione di un gene che causa la distruzione della sostanza bianca, quindi la mielina che è la guaina che riveste i nervi e che si trova a livello del cervello, del midollo e dei nervi periferici e causa nei bambini una gravissima malattia a esordio nell'età scolare, in genere tra i 3 e i 10 anni, che determina in poco tempo la perdita di funzioni motorie e cognitive. Quindi questi bambini sviluppano dei sintomi che sono il deficit della capacità di camminare, di parlare, di capire, perdono le autonomie nel lavarsi e vestirsi, finiscono allettati e in pochi anni in uno stato vegetativo. Quanto è importante fare diagnosi precoce? È estremamente importante ovviamente fare diagnosi precoce perché non esiste un trattamento farmacologico quando i sintomi sono già manifesti e quindi quando la malattia ha già aggredito il cervello di questi bambini. Invece è possibile, esiste un trattamento effettivo a fermare lo sviluppo della malattia che è il trapianto di cellule staminali midollari, quindi il trapianto di midollo osseo che però è efficace esclusivamente se adottato prima che siano manifesti sintomi neurologici importanti e prima che ci siano alterazioni rilevanti alla risonanza magnetica. Quindi è estremamente importante il monitoraggio dei bambini diagnosticati e la diagnosi precoce in quelli che hanno un sospetto diagnostico. Voi collaborate a livello europeo, quanto è importante fare rete tra medici e ricercatori? Naturalmente è fondamentale fare rete perché sono malattie rare, che vuol dire che hanno un'incidenza bassa ma complessivamente richiedono una comprensiva e multidisciplinare capacità di diagnosi, di assistenza e di ricerca anche perché ho detto il trattamento con il trapianto di midollo osseo è disponibile in centri naturalmente specializzati che sono poi quelli come il nostro istituto Besta che fanno diagnosi e che riescono a monitorare e a seguire in maniera corretta i bambini ma è un trattamento ancora di elevato rischio di mortalità, di complicanze, estremamente delicato e quindi è necessario che la ricerca prosegua nell'identificare cure il più utili e meno pericolose possibili.